Buongiorno ragazzi, in questo video sintetizzeremo i punti fondamentali della novella Rosso Malpelo. Vi ricordo che per approfondire nella descrizione sono presenti alcuni link a cui fare riferimento. Rosso Malpelo è la prima novella verista pubblicata da Verga, prima appuntata nel 1878 su Un Quotidiano e poi inserita nel 1880 nella raccolta di novelle Vita dei Campi. La novella è ambientata in Sicilia, quindi in un contesto che va a determinare quelli che sono i personaggi, personaggi che sono determinati da fattori quali l'ereditarietà e l'ambiente, che impediscono al protagonista, ossia un giovane chiamato Malpelo, di uscire fuori da quella che è la condizione all'interno del quale è piombato. Malpelo è infatti un ragazzo emarginato e sfruttato, lavora all'interno di una cava di sabbia in condizioni disumane. È visto in maniera cattiva da tutti perché ha i capelli rossi. Pian piano Malpelo arriva a maturare la consapevolezza di quelle che sono le leggi che governano il mondo. Queste leggi sono fatte, sono basate sulla sopraffazione, sulla violenza che regola l'esistenza. E così Malpelo, dopo aver perso suo padre e dopo aver perso il suo amico Ranocchio, non fa altro che andare incontro al suo destino, senza alcuna esitazione. Malpelo muore dopo aver accettato di visitare un tratto inesplorato della galleria. Malpelo entra in questo luogo, un luogo da cui nessuno è mai tornato, e lì si perde per sempre. Nel rappresentare questa drammatica realtà, Verga rinuncia a dare giudizi morali, rinuncia a dare giudizi personali. Qualsiasi tipo di giudizio proviene eventualmente dal lettore, che si trova di fronte al punto di vista della collettività. Una collettività che sembra quasi raccontare la storia attraverso un punto di vista strano. Malpelo appare cattivo, ma forse in realtà cattivo non è. Quella di Verga è una vera e propria, diciamo così, non solo denuncia sociale, ma è un voler mettere a nudo, attraverso quindi la tecnica dello straniamento, quella che è la realtà fatta di sopraffazione, di egoismo, la realtà dell'utile economico, dalla quale gli uomini non possono fuggire. Nella vita esistono vittime e oppressori. E se ne malavoglia troviamo la lotta per la vita, che coincide con un tentativo di miglioramento delle proprie condizioni, all'interno di rosso malpelo troviamo semplicemente delle persone che soccombono alla violenza, che soccombono di fronte a quella che è l'esistenza. La lotta è una lotta per la sopravvivenza, che non comprende in nessun caso la possibilità di cambiare la propria condizione.